I cinque migliori spettacoli teatrali prodotti dalle scuole superiori che arrivano a Cesena per sfidarsi in un vero e proprio concorso, calcando il palcoscenico del Teatro Bonci. Questo è il Festival Nazionale del Teatro Scolastico presentato oggi in conferenza stampa alla presenza del direttore del teatro, Franco Pollini, all'assessore alla cultura, Cristian Castorri e al presidente di Emilia Romagna Teatri, Daniele Gualdi. Il Festival del Teatro Scolastico è giunto alla diciottesima edizione e ha premiato sempre scuole italiane, provenienti da ogni parte, di grande valore e di grande importanza. Di fronte al pubblico delle scuole di Cesena e provincia andranno in scena dal 3 al 7 maggio cinque titoli scelti dalla commissione selezionatrice tra 61 domande di partecipazione. Scuole di tutta Italia saranno qui da noi, vengono dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Emilia per poter presentare degli spettacoli di sicuro successo. Abbiamo già dato il premio per il teatro civile alla Scuola di Parma e premieremo poi, fra tutte quelle che sono partecipanti, le più meritevoli dell'attenzione al termine di una rassegna breve, cinque mattinate, ma estremamente interessante.